pillole di dizione rubrica a cura di dizione punto it il sito della dizione italiana allora vediamo un attimo siamo davanti allo specchio abbassate lentamente la mandibola tenendo la testa ferma allargate e tendete le labbra fino al massimo che potete ed ecco che faremo una bellissima a a poi da questa a quindi il sorriso passeremo invece alla o guardate questo è un esercizio per passare con la massima apertura della mandibola da una a a una o aperta continua a studiare su dizione punto it scarica le prime lezioni gratis e migliora la tua voce dizione punto it il sito della dizione italiana